Quali sono i risultati già raggiunti dal Comitato per le Politiche e qual è il suo principale obiettivo? Questo comitato è stato fortemente voluto dal Consiglio regionale e sono soddisfatto perché finora, anche in pochi 18 mesi, ha raggiunto già dei buoni risultati. L'obiettivo è quello di valutare le politiche regionali sia per un motivo di trasparenza verso i cittadini, sia anche per renderci conto l'efficacia sui marchigiani delle politiche che attuiamo. Oltre a un lavoro istituzionale legato ai monitoraggi delle leggi, abbiamo in particolare iniziato un'attività di valutazione delle politiche per la non autosufficienza nelle Marche, un tema molto sentito, oramai chiunque nella propria famiglia si trova ad avere di fronte un anziano o un autosufficiente in casa, quindi è un tema che cambierà moltissimo la pelle delle nostre attività, la nostra vita quotidiana e quindi poter valutare le politiche su questo tema è una cosa importante che stiamo facendo e quindi questa opera di valutazione servirà a riorientare le nostre politiche e comprendere l'efficacia di quello che stiamo facendo.